Buona a tutti ragazzi, qui è Fenix, benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui con l'apertura di due pacchetti di Xipsion Evoluzioni Allora, se sentite dei rumori in sottofondo è perché stanno facendo i lavori qui vicino Comunque ora iniziamo Abbiamo qui le nostre sleeves bellissime di ieri bianco, bellissime Quindi ora prepariamoci 1, 2, 3 1, 2 Metto a terra le carte rare Rattata Charmander Ghastly Growlite Energia acciaio Kakuna Negra mentale con slow bro Tenacia di Brock La reverse è un Onix La rara è un... No, vabbè, mega venoso re-exo la prima boost I pacchetti vanno usati, giusto per dire Ora, passiamo al secondo pacchetto 1, 2, 3 2 Qui non sa che non c'è niente, vabbè, mettiamo a terra comunque per sicurezza Growlite Machamp Pikachu Dodo Caterpite Polygon Cura totale Polyvrat Scusate Starmi e It Moncianolo Buona Buonissima Non mi posso lamentare direi Dunque ragazzi ho registrato anche un altro video Una sfida Contro mia sorella Vi faccio vedere cosa ho trovato io Un secondo solo Che prendo... Che devo spostare un attimo Cerco di capire come non far cadere la videocamera Così non di sicuro... No, di certo Vorrei andare ad abbassarla così Ok Andiamo nel comitone Vi faccio vedere anche, già che ci siamo, la mia collezione carterare Ok, l'ho aperto al contrario Trovato ragazzi Mega Charizard EX E Censiolo Visto il cavetto Vabbè Comunque questa è la mia collezione di carterare Cerco di tenerlo il più dritto possibile Magari alzo un po' la videocamera e inclino E qui andremo a inserire Mega Venosaur E Hitmonchan E adesso vi facciamo un bel giveaway Prima di caricare questo video Toglierò, diciamo, tra virgolette Cioè metterò in privato un video E chi risponde correttamente a questa domanda Ovvero Che carta rara ho trovato nello spacchettamento random Nella bustina di destini incrociati? Ti rincerà questi due codici Che gli manderò per privato ovviamente Dunque con questo Codafenix è tutto Ciao Ciao Ciao